Perché succede spesso al giorno d'oggi che facciano sentire inutili gli anziani? Cosa desiderano in fondo al loro cuore gli anziani? Si è davvero utili continuando a vivere anche da anziani? Chi è credente può continuare ad essere utile innanzitutto nella preghiera altruista. Chi prega per gli altri e per l'umanità intera lo deve fare con tutto il suo essere per glorificare Dio, cercando di evitare il più possibile il peccato ed amando di vero cuore il prossimo, soprattutto quelli della casa e della famiglia. Gli anziani possono essere utili anche nell'evangelizzazione, nella continua conversione di se stessi, nella lotta interiore. Possono collaborare a diffondere la parola di Dio tramite le esultazioni, le raccomandazioni, le testimonianze ed i rapporti interpersonali. Finché Dio ci lascia in questa vita, facciamo sempre parte del suo misterioso piano d'amore, perché Egli vuole condurci sempre di più verso la pienezza e la luce della verità in Lui. Del resto tutto concorre al bene di coloro che di amano Dio.